Questo è difficile dirlo, diciamo che è da attendersi che i mercati continuino ad osservare, questo è fuori dubbio e penso che la collettività internazionale si aspetta dall'Italia delle risposte, dei chiarimenti e quindi è questo che dobbiamo attenderci nei prossimi giorni, un atteggiamento attendista e di osservazione da parte della comunità internazionale sull'Italia. Grazie.